Il commerciale Piazza Grande chiuderà la Pasqua e il lunedì dell'Angelo perché il terzo comandamento dice ricordati di onorare le feste. Parte tutto e noi crediamo che sia giusto almeno qualche giorno all'anno rimanere chiusi, quindi dare un pochino di respiro anche ai nostri collaboratori, ai nostri operatori. A piove di sacco la grande distribuzione si ribella ma che apertura Pasqua e Paschetta anche i dipendenti devono stare con le loro famiglie. Per questo in quei giorni di festa staranno a casa tutte le commesse e i lavoratori così come a Natale, Santo Stefano, il primo maggio e ferragosto. Il direttore Filippo Lazzarini non ha dubbi, una scelta che poi dice ripaga. Si motivano e soprattutto possono rimanere con la loro famiglia almeno due giorni consecutivi nell'arco dell'anno, insomma che con l'avvento delle domeniche è davvero difficile far coincidere dei pranzi e dei momenti conviviali con la famiglia. E poi bisogna considerare l'aspetto umano. Molte commesse mamme con le aperture domenicali si trovano a dover lasciare a casa mariti e figli per andare al lavoro, quindi è giusto che a Pasqua e Paschetta si godano la famiglia. Non saranno certi i giorni di festa a far crescere il volume delle venite. La crisi non deve essere usata come scusa per una liberalizzazione selvaggia. Però il consumo e l'acquisto veramente è un po' diminuito e quindi crediamo che un paio di giorni di chiusura non possano così compromettere i bilanci delle aziende.